E andiamo con la terza batteria G2, Giulio Gona, Trentino Garda, Cristiano, Marchi, Ciclomania Resi, Stefano Adamidi e Meiz Verona, Tommaso Negro, Creazio, Niccolò, Giacobbici, Verona e Pietro Stelardi e Meiz Verona. E abbiamo Gianni Verona, Trentino Garda e Ciclomania Resi nelle prime tre posizioni. A seguire Creazio è ancora in perono.